In un circolo privato a Due Carrare, in provincia di Padova, gli uomini della Questura hanno trovato 21 persone intente a giocare attorno a un tavolo, in completa violazione di tutte le norme in contrasto al Covid. Squadra amministrativa della Questura, assieme a mobile e agenti del reparto prevenzione crimine Veneto, hanno fatto eruzione nei locali. Identificate 21 persone tra i 25 e i 50 anni, tutte italiane, tranne due stranieri regolari nel territorio. Tutti erano seduti attorno a due tavoli, a stretto contatto fisico l'uno con l'altro. Identificati e sottoposti a controllo, è emerso che 14 di loro avevano precedenti. Nel locale era stato inoltre allestito uno spazio addibito a bar. Tutti i presenti sono stati multati con 800 euro ciascuno, con la contestazione di spostamento senza giustificato motivo. Il locale ha subito delle conseguenze. Il circolo è stato chiuso per 5 giorni. Inoltre, i provvedimenti sanzonatori sono stati notificati al presidente dell'associazione, un quarantenne italiano, invitato in Questura perché non presente al momento del controllo. Sia il presidente che il segretario del circolo sono stati denunciati per il reato di stigazione a disubbedire alle leggi, perché seppure in emergenza epidemiologica hanno organizzato tornei di poker e per ottenere la partecipazione di numerosi giocatori hanno divulgato tramite WhatsApp messaggi di invito contenenti anche indicazioni su cosa dichiarare in autocertificazione in caso di controllo.